Ma solo io non vedo la testa del soldato, scusatemi. Guarda quanti carri, mi fanno già paura. Ma un carri è scomporso, ragazzi. Scattare, scattare. Orkaboo! Bella a tutti compagnia, oggi ragazzi vi porto un funny moment su Combined Harms, la nuova modalità cooperativa fino a 4 persone rilasciata recentemente su Battlefield V. La modalità in sé a noi è piaciuta perché, se giocate in compagnia come abbiamo fatto noi, riesci a divertirti e a usare questa modalità come valvola di sfogo dal multiplayer. Io comunque, come al solito, vi chiedo di supportare questo video con un bel mi piace ed un commento, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui prossimi video. E detto questo, vi lascio la partita. Ma solo io non vedo la testa del soldato, scusatemi. Ragazzi, dopo ve la faccio vedere, non c'era la testa dell'ufficiale. Oh, tutti dorati, se no qua facciamo brutta figura, eh. K7 dorato, dai. Che arrogante. Ti hanno visto, Gipo. Ma porca. Vedi che ti hanno visto. Basta, niente, fuoco volontà. Chi è? Oh, sta buono. Ma ci schiatti te. Quanto è resistente sto coso, però? Oh, mi hai rotto già le palle. Eh, voglio vedere colpiti in faccia quanto è resistente. Eh, scusa, eh. Ho sparato 30 colpi, non è morto. Come facciamo a farlo in modo stealth, scusatemi? Che dovremmo fare? Chi è che è sgamato? Ma no. Salve. Oh, io. Oh, questo c'è lanciafiamme. Non c'è lanciafiamme nel multiplayer, bastardi. Quando è che l'avete introdotto? Eh, mi ha sbattuto fuori. C'è fuori la cosa? Hai cresciato il gioco. No. No. Bene, ma non benissimo. Guarda che belli con lo stesso cappellino. Tutti i fashions. Permesso. Buongiorno. Ah, adesso con un colpo di drilling ci muori, eh, stronzo. Morto. Morto. C'è da dire che comunque ci sono meno camper che nel multiplayer, eh. Porco! Puttana, eh. Ma sei rincoglieto. Ma te sto scemo. Preparate le vostre difese? Sorry, scusa. Tanto che qua adesso bisogna fare classica modalità sopravvivenza a orde. Sì, infatti, sopravvivi fino al recupero. No! No, di nuovo il tizio con lanciafiamme. Perché è sempre da me? C'è anche il carro. Ma che simpatia. Colpendo il carro. Vai, sto colpendo il carro. Hello, mother fucker. Non esisto, perché è vero? Ragazzi, il carro mi ha guardato malissimo e mi ha ucciso. Due carri? Anche un razzo V1, tanto che ci siamo. T'ho sparato un drilling in faccia dei denti, Gibo. Aia, chi è che mi sta già... Ragazzi, sono già morto. Come cazzo fai a essere già morto? Non lo so, non me lo chiede, ma ho un shotato qualcuno. Quanto resistente. Oh, porco. Eh, che cazzo, eh. Riescono a uccidermi più facilmente i botte che le persone normali. Ce ne rendiamo conto, ragazzi. Poi non ha molto senso, perché se sentivano gli spari, chiamavano rinforzi questi. Non è che gli altri aspettano che arriviamo. Ma pensavano che fossero i loro compagni di squadra che si esaltavano, così come dei bambini. Ah, eh, sì, è proprio quello. Puttana Eva, ma ha ucciso. Ragazzi, fate proprio cagare, lasciatemelo dire, eh. Va bene tutto, ma stiamo facendo una figura di merda incredibile. Vinciamo le partite praticamente impossibili da vincere e poi moriamo così contro i botte, ragazzi. Io mi farei un esame di coscienza. Walter, vieni qua. Corri dritto in questa via qua, fino in fondo. Vai verso la chiesa. Se subito è girato, ciao, io mi do. Però, ragazzi, adesso rinforziamo tutto, non perdiamo tempo. Porca puttana. Ti begga, Gimbo, ti begga, ti begga. Ok, ragazzi, stavolta non si muore, ok? Aha. Cheat. Dove cazzo è questo? Sto ancora fortificando. Ma questo era sopra, cosa ci fai sul tetto te? Faccia fiamme. Aspetta, gli spari un Piat. No, io ho fatto un cazzo col Piat. Gli spari un altro Piat. L'ho lasciato di nuovo col Piat. Carro, raga, carro. L'ho one-shotato dal carro. Stai fermo, carro. Cioè, tre dinamiti, veicolo colpito, dieci? Ma quello ha appena attraversato il muro. Pronto, signore? Oia, il carromato da dietro. Orca miseria. No. Ragazzi. Quanto siamo scarsi. Vado sopra per uccidere il tiso qua io. Salve, buongiorno. Ma ci muoia? Quanto resistente Steve. Corri dritto verso la macchina nera. Porca puttata, perché ha sparato a me? Cazzo. L'ha preso di nuovo. Ma perché sono su di noi e sparo ogni volta sto qua? Perché? Non ho capito. Io, come cazzo parlano questi? Sparata verso la porta. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, ragazzi. L'ho one-shotato subito il tizio con lancia fiamme stavolta. Oh, va a fare un bagno a te, va. Va a fanculo. Cosa, cosa, cosa a fanculo? Cosa è successo? Ah, che dolor. Tutana Eva. E va bene, cazzo. Carro eliminato, carro eliminato. Il carro. Il carro. Oh, cazzo. Eliminato, eliminato. O te mi hai rotto tre quarti di palle. Viva il rallentatore. Ce l'abbiamo fatta. Ben vinto. Sì, dopo 12 fallimenti. Operazione riuscita. Questo slow motion è inutile. Guardalo. Primo in classifica. King of Cazzoans. Come sempre. Quanti sono? C'è qualcosa per la sabbia, eh. Guarda subito come mi sono addobbato io. Stack, mascherina anti-gast. Gibo e Vale sono sempre abbinati gli elmetti. Non avevo visto cosa l'ha tirato fuori. Madonna. Inizio la partita avete le stesse elmette. Adesso ce l'avete uguale identico. Non ho capito. Munizioni? 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 Ragazzi, ma vi sembra Amada o vi sembra Marte? A me sembra che là ci sono due, guarda. Che squadra affiattata, meravigliosa. Ma però è bruttissimo Amada così. A me piace. Ma dai, arancione. Ma tu perché c'hai la maschera anti-gas. Che cazzo vuoi vedere? È vetro, non è opaco. Tutta appannata. Vabbè che ieri ho scoreggiato nel carro armato, però calmati. Gibo? Puttana Eva. Ciao, ciao Gibo. Oh cazzo. Eh, anche noi abbiamo avuto la stessa reazione. Abbiamo già finito ragazzi, dobbiamo andare all'area di recupero. Ragazzi? Correte. Corri, corri, corri. Non è un carro, è un aereo. Corri, corri, corri. Cazzo. Mi sta massacrando l'aereo. Arrivo, vale. Alla me abbandonare il soldato. No, ho già arrivato io. Quanti, ma è esagerata sta roba. Vabbè ragazzi, è impossibile sta roba. Abbiamo vinto. Vinto. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Oh, veramente, è più difficile questo che il multiplayer, ma ce ne rendiamo conto. Silenzio. Vale non scherzare X. Tutorial, vale. Appoggi il joystick e non toccarlo. Guarda lì qua. Veli che collatera lì che faresti. Guarda quanti cari, mi fanno già paura. Ma un carro è scomparso ragazzi. Guarda questo. Nell'angolino. Ciao pirla. Ragazzi, io sento un rumore brutto, voi? Sì. Scattare, scattare. Orca buono. Ci abbiamo azzeccato sul fatto del carro, però, eh? Questo bisogna ammetterlo. Eh, non siete furbi quanto noi, eh? Non sapete che amparare voi bot. Ho lanciato il missile. Ah! Guarda quante! Ma piccolo problema. Eh, ragazzi, adesso dov'è un riparo per noi? Arriva un altro razzo. Arriva, 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 arriva. Aspetta. No, mi sono suicidato pure io! Cazzo, anch'io. Cazzo, male! No, fallito. No, come? No! Munizioni? 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 Ma, Gibo, puttana... Eh? Voglio sapere una cosa, Gibo. Che cosa hai rinforzato a fare? Che tra due minuti lanciamo razzi-v una manetta e distruggiamo tutto. A me piace rinforzare. Perché deve essere un raggista contro il rinforzo? Razzista contro il rinforzo. Gibo, cosa ci fai là? Do una mano. Sabe che se ci muori io non ti tocco, eh? Puttana, è la sua morte. Eh, ti sta bene. Steve, saresti un medico te. Ti denuncia l'ordine, porca puttana. Che belli stare in scuola con voi, ragazzi. Ma c'era uno dietro di me, che cavolo vuoi tu? Perché c'ho le porte bianche qua io mo? Vai, Walter, unisciti pure a loro. Sono in una squadra di merda. Non ci voglio più stare con loro, guarda. Guarda come fa l'offeso. Guarda lo senso di lui. Si vince comunque e sempre. Ma stavo arrivando. No, son morto. No, son morto all'ultimo. Mi son buttato giù dal palazzo mentre c'era il rallenty. Dai, no, non ci voglio credere. No, son morto all'ultimo.